Buongiorno, mi chiamo Anna Barbara e insegno interior e special design e lavoro presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Il tema progetto e materia, nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy per l'International Design Day quest'anno è molto strategico. Potremmo dire che nel nostro paese il progetto è verbo materia perché la natura dei materiali che ne scaturiscono è spesso l'essenza da cui tutto parte ed è proprio questa radice del design italiano negli ingredienti primari della materia locale, dei suoi territori, dei suoi presidi, come viene da anni per il cibo, la cifra di sostenibilità e ripartenza che tutti ospichiamo. Grazie a tutti.